La parrocchia Santa Maria delle Grazie presenta l'infiorata di Casa Tori, appuntamento a San Valentino Torio con la 24esima edizione il 13-14-15 settembre, venerdì 13 l'avvio dell'omaggio floreale, momento clou domenica 15 con alle 23 il regale passaggio dell'immagine della Madonna sui tappeti di fiori e spazio anche al gusto a partire dal 13 con la sagra I sapori antichi della terra.